buona settimana che comincia buona settimana che comincia con legal community penultimo editoriale dell'anno parliamo di crescita dimensionale degli studi è un momento cruciale questo che stiamo vivendo anche oggi la nostra newsletter non solo vi regala le notizie principali della scorsa settimana ma vi da anche qualche anticipazione su quello che di importante sta accadendo in queste ore sul mercato per cui scorrete le notizie che accompagnano questo video editoriale perché insomma qualche sorpresa c'è anche questa settimana come al solito per voi che seguite con fedeltà e fiducia legal community crescita dimensionale degli studi lateral hire questo è stato un altro dei trend la settimana scorsa abbiamo parlato dell'internazionalizzazione questa settimana uno spunto sulla questione della della crescita dimensionale degli studi che possiamo definirlo alla seconda tendenza che ha trainato il 2024 delle professioni legali d'affari mai come quest'anno lo abbiamo già detto ma lo rivedremo lo riscontreremo nel nostro recap di gennaio mai come quest'anno negli ultimi anni gli studi legali hanno dato vita alle aggregazioni che hanno fatto crescere enormemente il loro numero di professionisti quando ho cominciato l'avventura di legal community il tema della crescita dimensionale era diventato un vero e proprio tabù dopo la grande crisi seguita al credit crunch e a tutta quell'onda disastrosa arrivata dagli stati uniti dopo il 2008 quando si parlava di crescita dimensionale la gente si metteva le mani dei capelli diceva per carità noi vogliamo essere piccoli snelli agili capaci di navigare le acque di questo mercato in maniera rapida e senza rimanere incastrati in scelte strategiche che poi presentano il conto sono passati tanti anni 10 per l'appunto più di 10 oramai per l'appunto le cose la percezione sta cambiando del resto tutte le operazioni che abbiamo visto quest'anno vanno in questa direzione tantissimi studi hanno incrementato in maniera importante i loro organici e molti annunciano dichiarano di essere pronti a continuare a farlo perché la crescita dimensionale è diventata un fattore di competitività estremamente importante essere in grado di venire percepiti dai clienti come un hub dove trovare il più ampio spettro di soluzioni alle questioni che l'azienda di turno la società di turno la banca di turno l'istituzione di turno deve affrontare è in assoluto un dato positivo che aumenta il grado di competitività delle strutture detto questo però non si può crescere senza lavorare anche sulla governance degli studi non è un caso che i due temi stiano andando di pari passo che di governance si parli in continuazione qual è la governance più adatta a uno studio legale governance vuol dire regole per distribuire i poteri all'interno dello studio regole per distribuire i denari all'interno dello studio regole per distribuire le carriere all'interno dello studio si può procedere guardando soltanto un modello di gestione estemporanea o bisogna in qualche modo scientificizzare questa questa questo approccio e questo modo di operare la verità probabilmente sta nel mezzo né eccessiva rigidità né troppa improvvisazione anche perché più si ampliano i numeri più crescono i numeri più diventa difficile tenere il controllo di tutto il faro deve essere anzitutto non perdere profittabilità perché ovviamente se la crescita va a ledere o a danneggiare la redditività di una organizzazione beh comincia a minarne anche la sua stabilità questo ci arriviamo tutti ma l'altro aspetto deve essere quello della coerenza coerenza di immagine coerenza di linguaggio coerenza di approccio al mercato e coerenza qualitativa cioè non si può crescere per crescere ma bisogna crescere cercando di aggiungere eventualmente pezzi al proprio al proprio al proprio organismo professionale che non siano distonici rispetto alla struttura che si è portata avanti nel corso degli anni ecco probabilmente tenendo conto di questi tre fattori si riesce a gestire in maniera opportuna una un ampliamento delle strutture che ovviamente non dovrà mai cedere alla tentazione di una governance che non tenga conto delle minoranze riuscire a governare assieme alle minoranze riuscire a creare consenso è fondamentale all'interno di strutture organizzate che sì sono simili ad imprese dove se volete c'è una gerarchia molto rigida c'è un amministratore delegato un decisore un consiglio che guida e che nel bene e nel male si prende le responsabilità di quello che decide e va avanti ma gli studi legali non sono imprese come le altre sono delle imprese ma sono delle partnership e quel grado di sovranità che ogni detentore di una quota di questa partnership rivendica e detiene giustamente deve essere rispettata e valorizzata in modo tale da non rendere pura finzione o soltanto pura finzione quella struttura a cui tanto si è lavorato io vi auguro buona settimana noi ci vediamo lunedì prossimo per l'ultimo editoriale dell'anno è l'ultimo numero di manga ciao